ciao a tutti ragazzi sono lax siamo tornati allora oggi andiamo a analizzare insieme che cosa ci sarà i domani perché abbiamo visto insieme o almeno qualcuno di voi ha visto che brow stars ha pubblicato in giro una foto insomma pubblicato una foto in giro dove che vi metto a schermo qui vediamo insieme praticamente questa foto che a occhio sembrerebbe una il primo che quello quello è il primo quello che hanno uscito l'ultima schiena che era uscita il primo però c'è anche delle cose diverse sembra che ci abbia tipo un lecca lecca in mano e un cappellino potrebbe essere anche a me mi ha dato l'idea una skin biscotto o una skin gelato tipo una cosa così con la caramella in mano tipo skin candy però vabbè a parte questo dovrebbe essere l'annuncio del brawl talk che dovrebbe esserci domani quindi domani dovremmo avere le informazioni a riguardo del capodanno lunare che uscirà quindi video brevissimo era soltanto per dire che probabilmente o è una nuova skin appunto del primo ma molto relativamente parlando oppure ci sarà appunto domani il brawl talk che è molto probabile è stato non ufficializzato ma è quasi ufficiale che domani ci sarà quindi noi ci rivediamo appunto in un prossimo video dove andremo a parlare insieme del brawl talk di quello che verrà detto io vi ricordo di iscrivervi qui qui e lasciat like condividete il video noi ci vediamo nel prossimo un saluto a tutti e bella